ciao a tutti benvenuti su GatorCompany e adesso si continui amici siamo a scaricare attenzione che strac vuol dire? le glisse? che strac vuol dire? che sto fatto dei negrissimi? ma ne so muoveremo lo sai? veloci andate sennò stiamo perdendo solo da me e non è porca puttana mi stai spaventando da me bene molto bene andiamo oh l'hai sentito? oh l'ho stato c'è nulla che sto comore? l'acqua del nobolo ma mi si va ce l'ho io la chiave locket vai aperto fiero qualcuno va a prendere il cazzo? andiamo torniamo indietro posiamo una roba e poi ritorniamo e andiamo a destra proprio che poi siamo andati a sinistra oh vai 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 sg nata bocca oh ecco va per il cazzo ok ragazzi sono sono nei 2 meno 10 in gioco quindi dobbiamo muoverci dei guardiani che ci hanno riflettore a posto del pomo e quindi ti vedono se stai in giro di notte big balls collected c'è testicoli di toro in sala moglie noi abbiamo da mangiare per un mese ovviamente adesso è tosta che c'è la dio i nemici sono pure fuori che tipo di nemici e boh non sono un esperto ma doma che è sta guarda che pioggia ragazzi che succede non lo so se ritorna la roba usciamo fuori un attimo madonna ma io ma io tornerei un attimo apposito a deposito tutta sta roba vuoi che dite eh vai andate io e jessica continuiamo a tirare la roba c'è una chiave pure eh vabbè ma non posso tutta sta roba muoio prima di arrivare madonna rientriamo dentro come cosa facciamo o ci proviamo o ci proviamo guarda che c'è un certo delay c'è un certo delay tra un coso e l'altro ci provo vai vengo con te vai aaaaaa ma te come sei morto tu eeeh non hai visto no stavo vedendo con bambus eeeh il mostro stava cambiando la porta il centrale mi è ucciso ma la porta la secondaria non la primaria eh ma ho visto io sai come sono morto quel fulmine eh appena sono uscito aaaaaa forse il metallo di il metallo si ma c'eravamo ieri con bambus era proprio da me e continuiamo la nostra avventura su questo fantastico proprio allora io da qua non ci vado dove sei? ok desto desto pocav shhh io dove? ok salve e me ciao frate e sono venuti dall'amat a laggiù da l'entrata principale guarda lascio la roba vuoto 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 qui è che è ok ho aperto io oh non vedo un cazzo chi è? fermo giù non gli è venuto hai visto o ho sentito? non lo so continuiamo a dire a posto no? quel progetto non l'ho sentito sotto io spero che cosa sta accogliendo? l'hai sentito? si ah è tornato ok torniamo indietro si è vivo aspetta aspetta spolliamo sto piano e poi andiamo no torniamo indietro direttamente eh ah no è proprio di qua per tornare indietro perfetto mi sa aspetta non sa che era di qua quindi si deve saltar qua? no 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 non dobbiamo saltare non dobbiamo saltare sono loro eccoli allora non lo so di là non lo so di là eh ma questo muove da noi saltiamo via via fuggire 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 madonna vieni presto il bello è che Matteo è uscito una passione di secondo prima che io entrassi dicendo dove entrare? dove entrare? dove entrare? ah boh però si abbiamo avuto un boom enorme eh Mario prima mi sembra questa è una passione di da